Questi sono formaggi in doppia filatura vacca e pecora in tagliati a mano. Che cosa vuol dire? Che oltre alla filatura, la particolarità del laboratorio è dargli una forma che parli della nostra tradizione. Quindi che sia una maschera sarda, il muraghe o la sardegna con il viso inciso. Quindi oltre al gusto perché sono tutti col ripieno. Gotarga, mirto, creme noci, guanciale. Il laboratorio, oltre all'estetica particolare, il punto diciamo principale è dargli un gusto diverso, che è solo la manualità. Il fatto di poterti concentrare su quel prodotto fa sì che ciò avvenga. Niente da dire con i laboratori, con i caseifici. Loro vanno in grande quantità e di conseguenza stare a fare la filatura a mano, intagliare, è una cosa che può fare solo un'artigiana che fa pochi pezzi e che si dedica a fare questo prodotto qua.